Alla partenza i cavalli della settima corsa è una categoria F riservata a gentlemen proprietari saranno in 9 al via dopo il ritiro di zona jet che si sarebbe dovuto avviare con il numero 8 Dallo steccato Zampillo Jet, Vandalo Desi, Bel Volo, Van Vitelli, Brezza Puraferma, America S, Zoe Star in seconda fila Vasco Denigrif e Aurea GM macchina che è a 100 metri dal punto dello stacco, un buon allineamento e sono partiti con dall'interno Zampillo Jet che prova a contenerli tutti ma all'esterno insiste il 7 di Zoe Star che scavalca Brezza Pura e si pone al comando dopo lancio in 14 e 1 c'è l'errore di Zampillo Jet che si elimina e Brezza Pura può ripiegare alle spalle di Zoe Star all'esterno Vandalo Desi nelle prime posizioni anche Vasco Deni nella scia dell'attaccante Vandalo Desi c'è Van Vitelli Vandalo Desi in realtà non attacca ma resta lì al lato di Vasco Denigrif in terza posizione all'esterno e chiude l'allievo di Filippo Esposito allo steccato se ne vanno in 46-600 metri trova la destra libera Filippo Esposito e punta in avanti e nella sua scia si muove Aurea GM ora Vasco Deni è al lato del battistrada Zoe Star al passaggio di metà gara in 1 e 2 un filino abbondante in terza ruota alla fine si ritrova Vandalo Desi che punta dritto e sto spinge Vasco Deni ad andare su Zoe Star che ha poco da opporre al passaggio del chilometro in 17 e 2 insiste Vasco Deni su Zoe Star e passa al comando sulla stessa Zoe Star all'esterno c'è Vandalo Desi poi Aurea GM attacco dell'ultima curva con Vasco Deni che prende 2 che diventano 3 di margine su Vandalo e Zoe Star poi Aurea GM e Van Vitelli Vasco Deni Griff in vantaggio all'ingresso in retta arrivo Vasco Deni Griff un vero e proprio assolo dell'allievo di Filippo Esposito che si allontana e viene a vincere nel più facile dei modi al secondo un ottimo Vandalo Desi respinge Aurea GM sin sul traguardo io 1'59 e mezzo sul mio cronometro 42'3 a chiudere Vasco Deni Griff andatelo a prendere 42'3 a chiudere per il portacolori della scuderia Esposito guidato da Filippo Esposito il forte figlio di Varenne Lenor King che sembra aver ritrovato i motivi migliori quindi per i numeri 9 Vasco Deni 2 Vandalo Desi terzo il 10 di Aurea GM va in archivio la settima corsa di Castelluccio dei Sauri nel nome di Vasco Deni Griff e Filippo Esposito che siglano la gentleman di giornata allinea gli studi di Roma Grazie.